Primo quarto di secolo per la colletta alimentare. Per festeggiare questo venticinquesimo anniversario quest'anno anche in Valtellina e Valchiavenna una nuova sfida. Da isolaccio a Madesimo, dall'aprica fino a Colico, i numerosi volontari delle associazioni coinvolte, in primis gli alpini, domani saranno pronti ad accogliere i clienti in poco meno di un centinaio di punti vendita aderenti all'iniziativa. In presenza, dunque, davanti ai supermercati a proporre il gesto più semplice di carità, donare del cibo per chi è in difficoltà. Il cibo poi raccolto sarà redistribuito a 14 strutture convenzionate della provincia, tra cui Caritas e Croce Rossa. La solidità e il radicamento diffuso dell'iniziativa della colletta alimentare sono i suoi punti di forza ed essa si dimostra tutti gli anni uno dei gesti più semplici e più utili per venire incontro al bisogno e alla povertà crescente nel nostro paese. Ma ecco la sfida dei 25 anni. Dopo la colletta di domani, da domenica 28 fino al 5 dicembre, sarà possibile presso i supermercati aderenti proseguire la colletta con la modalità delle card o comunque con una donazione che sarà poi trasformata in cibo.